Invece a ottobre entro sempre in una classe prima media e mentre entro vedo due che stanno litigando, no? Due ragazzini. E uno gli fa l'altro, tu madre è una pompinara! Ma io faccio, fermi tutti. Matteo, ma tu lo sai che cosa vuol dire la parola che ha usato? Cioè, lo sai cosa vuol dire? No, non lo so. Lo so io, fa Filippo che è il suo compagno smaliziato che gli sta a casa. È quando una donna dà i baci sul pisello. Bravo Filippo, otto!